Ciao 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 Basta Ok 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 Cancella tutto Per favore eh No Come io al mio sport ho chiamato la mia compagna Squaltri Sei sicuro che quella lì ti cerca? Ovvio Pappapira Tu non lo sai usare Si lo so usare Si vede Allora adesso vi mostrerò Vi disegnerò la testa del mio compagno No aspetta Devo disegnare la prima e io la tua Questa è la testa del mio compagno Questi sono gli occhi E quella è la bocca Io disegno il cervello Il cervello di Della mia compagna qua Ecco in bianco per cui non c'è Ok dovremmo presentarci Bene allora noi siamo Ito Geppetto Però Cioè siamo qui in missione speciale No stai zitto Allora noi siamo qui in missione speciale Perché? Ecco allora perché Boh è un motivo Però allora il nostro nome adesso è Ehm Qual è il nostro nome? Rispondi alla domanda Ah si John 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 score 9 Che non ci dovrebbe essere Si vabbè E Lady black Boh allora Adesso facciamo qualcosa Ma non scrivo sti mattoni Lo so Cioè io mai vorrei una cosa del genere Aspetta 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 Devo scrivere Scriviamo però con i mattoni Non scrivo Non scrivo Perché è più stiloso Scrivi con i mattoni Va bene Ok Scrivi quella cosa che ho tentato di scrivere io prima Ma non ci sono riuscito Perché ho failato tre volte Con i punti esclamativi E dopo Sì Punto di domanda Artistici No sembra più Una scala Facciamo un uovo Che si fa prima Beh 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 No No Boh allora adesso facciamo Adesso facciamo Vediamo un po' di erba Erbida Erbida Dov'è l'erba? E' tutto qua per te Buona da mangiare Mangiare da sniffare Ehm Noi smettiamo Censura Censura Ehm Piega Non so E' vietato a piegare in questo modo Erbida Piegati mastarbo Ok scusate Sì magari se cambia il calore si vede meglio Sì allora adesso facciamo così Ehm 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 Adesso farò un disegno ambiguo Col caleidoscopio Così voi non lo capirete Ah 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 Come sono sbagliato Noo Noo A volte due volte Allora adesso faremo un disegno ambiguo Questo vi dovrebbe già aiutare Intanto col caleidoscopio Lo so Sì 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 Ok ora è più chiaro Sì Forse dovrei fare così Sì Poi Poi forse più in basso Dovrei fare una specie di triangolo Perché è una faccia Ehm Questo È una faccia Esatto Cioè cosa pensavate Mica si pensa male Cioè Cosa pensavate Questa è la faccia del mio amicio Biam Biam Ehm Questa è la bocca Ehm Questa è la bocca Ehm Questa è la bocca Ehm Ehm Questa è la bocca Ehm È un animale ambiguo Ma vabbè Poi questo È il nasino Ehm A due nasi Scusa Sì Sì Certo Si prego Adesso tocca a lei Dottore No 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 Facciamo di bianco Molto più artistico Facciamo Parli Oddio Molto artistico Sì È meglio dei disegni Che separati Ho ho Sì No scherzo Eh sì Il tipo è meglio Sono questi Oh Pfff Di Oh vabbè Stai chissà quanti morti Se lo fai ancora un po' Poi ti viene tutto bianco Ehm Eccolo nel mio vento Ah Figo no? Boh scusate scusate Ma devo realizzare un desiderio Un desiderio incompreso scusate Eh In realtà abbiamo finito di presentarsi Non so perché due Ancora Ma perché non abbiamo niente di meglio da fare Quindi vabbè In realtà io sì Infatti troppo potevo andare Ma comunque Oh no aspettate Devo fare un altro disegno mio Mi è venuto a me adesso Che schifo Ma ho detto Non vivo Non ho detto una parolaccia Allora Ah Sì accecante veramente Ah Allora Adesso Adesso dice Non farlo di nero Ok va bene il blu Ecco così adesso non lo ho cavolo Valorda Adesso lo posso fare amico Voi non capire mai niente Sì io l'ho capito Solo che No che ne sai Sto facendo i denti della mia zia Pro zio Eh sì Ok Allora Adesso lo capirete Questa zona vi dovrebbe interessare Nient'altro Adesso disegnerò la faccia di questo John Ok siete pronti? È una cosa complicata È una cosa complicata No basta disegnare un sedere Vaffanculo Grazie Allora intanto È un po' effilminato quindi questo colore è più adatto No aspetta aspetta No aspetta aspetta Non so cosa sia questo Oh Ok vai Adesso Cosa? La tua faccia cosa vuoi che si dice? Sì ma sembra Cosa scusa? Eh allora Forse l'ho capito io ma non ne sono sicura Allora Se voi arrotondate qui E poi qui mettete tipo una cosa No non va bene Ecco Cioè se voi non guardate questa Se non guardate questa parte qua O anche quell'altra O anche questa E girate la testa Potrebbe sembrare anche due palline di gelato No Sapevo che tu l'avresti fatto Questi sono I graniti di gelato Esatto Si proprio quelli Devo dire Ok vorrei Ehm Poi spesso Adesso basta Caledio Cioè non ce ne può fregare di me Ok adesso come perché ha fatto tutto tutto Ok adesso va bene Cesso? Interessante Cesso Certo Noi non intendevamo niente di bollare Ma ormai noi C'è un po' Come possiamo Sì noi siamo persone Molto educate Sì, sì, soprattutto io Cos'è sta roba? Ah, figo, sembra di lieve anche se non l'ho Eeeh, è attivato Perché sono quella parte lì? Ah, giusto, queste si inventano Sei stretto forte Non vado Oddio, sono riuscito anche ad affendermi da solo Fiore Fiore Si, marrone, che verde Oh, c'è tutto Come si può fare un fiore verde? E anche nero Nero Siamo solo grande, aspetta, scusa, scusa Devo realizzare un mio desiderio Guarda che bello, guarda come sto È possibile, secondo me Sì, forse un'edera può fare una cosa del genere Aspetta Questo mi ispira E' un pesce Allora, scusate, questa schiuma Adesso, senti, basta È da otto minuti che facciamo cazzare Ah, davvero, bello Oto e mezzo Boh, allora, noi vi salutiamo perché abbiamo niente di meglio da fare Ok, niente Sì, certo Bomba Ciao Bene, allora, proseguiamo Boh, sentite Se volete Se volete sapere i nostri nomi andate a cercare il suo sito Vaffanculo, eh Ah Noi si Che incred... Che incredibili Sì, sì, la sono tutti No, adesso vuoi scrivere un po' Via, via, via Sì, ok, ma aspetta Voi mi farei sta roba perché sono un gelo No, no Sì, ma non è possibile Non è possibile Non è possibile Qualcuno Sì, ma non è possibile